Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa sportiva di Udinese Channel. Anche quest'oggi andiamo a vedere le principali notizie riportate dai giornali nazionali e locali. Cominciamo proprio dal Messaggero Veneto che quest'oggi parla di quello che è un ritorno all'antico che sta funzionando. Si fa riferimento ovviamente al modulo utilizzato da Stramaccioni nell'ultima partita pareggiata contro la Sampdoria in cui si è visto il 3-5-1-1, quel 3-5-1-1 utilizzato ampiamente anche da Francesco Guidolini. Allora proprio qui si va ad analizzare a confronto l'ultima squadra del Guido e l'ultima invece di Stramaccioni. Il modulo come dicevamo è lo stesso 3-5-1-1 o 3-5-2 dove però ovviamente alcuni elementi sono cambiati. sostanzialmente per quanto riguarda la difesa solo Vaguè e al cambio ovviamente di Domizzi tra i pali. Invece Scuffet con Guidolini e Carnesis con Stramaccioni. Per il centrocampo invece è cambiato qualcosa con Widmer e Pasquale e Cone e anche Pinzi al posto ovviamente degli altri giocatori dell'ultima squadra del Guido dove si vedeva Bassa, Nallan, Pereira e Gabriel Silva. Unica pedina del centrocampo rimasta invariata è quella che riguarda Badu. E invece anche per quanto riguarda le punte con Bruno Fernandes di Natale nella versione di Francesco Guidolin sostituita da Pterò e Geico invece quella dell'ultima partita di Andrea Stramaccioni. Il modulo però continua a dare ottimi risultati anche nell'ultima partita proprio contro la Sampdoria. Qui si vedono alcune azioni, alcune foto che ritraggono Cone e Giampiero Pinzi, i protagonisti in positivo a Marassi e invece nella prima foto, quella principale, un Andrea Stramaccioni nel tentativo appunto di dirigere il gioco dei suoi. Però ha parlato anche il capitano Totò di Natale, stato ospite della Domenica Sportiva e ha detto in azzurro non ho giocato nel mio ruolo. Ospite appunto della Domenica Sportiva non nasconde il rimpianto per non aver potuto dare il meglio con l'Italia. Andiamo allora a leggere alcune dichiarazioni proprio dal messaggero Veneto, dichiarazioni del capitano alla Domenica Sportiva. Per quanto riguarda i rimpianti, per quello che ho fatto in azzurro, ho premesso che devo ringraziare tutti i CT che mi hanno convocato. Va detto che con l'Italia non ho mai potuto giocare nel mio ruolo, ovvero quello di prima punta. Del resto in nazionale ci sono tanti grandi campioni e non si può pretendere troppo. Io comunque ho giocato quasi 50 partite segnando 11 gol. In Serie A ne ha fatti, ovviamente si ricorda, 201 e non intende fermarsi. Me ne mancano quattro per raggiungere un grande campione come Roberto Baggio, ha ribadito il capitano dell'Udinese e per me sarà un onore farlo. Poi si è parlato anche dell'ultima sfida a Marassi, quando ho attraversato il campo per andare a sedermi in panchina agli spettatori della tribuna mi hanno applaudito ed è una cosa bella. Poi si è parlato anche delle squadre che l'hanno cercato, le squadre alle quali però Dato Di Natale ha detto no, vale a dire Juve e Napoli. Per un napoletano è sempre difficile giocare nella squadra della sua città, io sono uno che quando perde non dorme due notti, figurarsi cosa sarebbe successo con la squadra per la quale tifavo da bambino. E poi si sofferma anche sul no alla Juve. L'interessamento del club più importante d'Italia mi ha riempito di orgoglio, ma la mia è stata una scelta di vita, la mia famiglia si trova bene a Udine, quella è la mia casa e lì ho deciso di finire la carriera. Un anno fa di questi tempi, concludevo, ho davvero deciso di chiudere, poi un paio di colloqui con il presidente, un confronto in famiglia, mi hanno fatto cambiare idea queste alcune delle rivelazioni, insomma in un'intervista di Totò Di Natale alla Domenica Sportiva. Ma andiamo avanti, perché si parla ancora delle scelte coraggiose e giuste da parte del tecnico Stramaccioni, scelte coraggiose che anche i tifosi hanno apprezzato, un applauso al mister. Scelte quelle di lanciare Vague e Geico in un modulo ormai collaudato, positivo anche l'atteggiamento con queste premesse, possiamo fare bene. L'Udinese quindi torna alla difesa a tre e convince, convince anche i tifosi che hanno scritto e che continuano a scrivere nei social network in questi giorni, dopo il pareggio, ma soprattutto dopo il bel gioco, prodotto dai bianconeri a Marassi. Dichiarazioni anche di Danilo Goleador a Marassi, sulla partita c'è la firma di Stramaccioni, ha dichiarato il difensore, il dono di Gabbiadini addio con onore, e poi una frase di Stramaccioni, bravi a mascherare le assenze. Sampdoria e Udinese hanno dato vita a una grande partita, anche la Repubblica è tutta per Gabbiadini, saluta un gol, quattro reti, tante emozioni. Solo la Gazzetta però dello sport regala un tributo ai bianconeri, titolando la nuova Udinese brilla, Gabbiadini si congeda con il regalo del 2 a 2. Stramaccioni non ha nascosto la soddisfazione perché era stato il primo a mettere la firma sulla gara con gli innesi di Vague e Geico, due scommesse vinte. Queste ovviamente anche le considerazioni da parte degli altri quotidiani. In taglio alto vediamo invece un titolo che riguarda Udinese per la vita, una nuova donazione al Niguarda di Milano, appunto al centro nemo dell'ospedale Niguarda di Milano, dove si curano le malattie neuromuscolari, in particolare distrofia muscolare SLA e amiotrofie spinali. La Onlus ha donato un macchinario per un migliore monitoraggio delle funzioni cardiorespiratorie. Tornando invece a parlare di calcio e della prossima avversaria in particolare, García arriverà al Friuli senza Gervinio e Keita. La Roma ha dato domenica sera ai suoi giocatori rompete le righe, la squadra si ritroverà lunedì 29 dicembre, al Friuli giallorossi arriveranno il 6 gennaio senza però Livoriano, Gervinio e il nazionale delle Mali. Keita impegnati in Coppa Grafica non ci sono squalificati tra i giocatori della Roma, invece per quanto riguarda la formazione bianconera non saranno presenti perché squalificati Pinzi e Ertò. Si torna a parlare della difesa 3, anche contro avversari col tridente, sono un trequartista alle spalle di Totò, Pinzi davanti alla difesa e Cone Mezzala. Soluzioni da riproporre, soluzioni che verranno riproposte dopo il rientro dei ragazzi dalle festività natalizie. Gli ultimi dal campo, test atletici ieri mattina, poi rompete le righe, ci si rivede quindi il 30 per l'appuntamento del 6 gennaio con la Roma, come dicevo non ci saranno Ertò e Pinzi squalificati. Dal messaggero continuiamo ancora a vedere un'altra pagina che parla dell'esordiente Vague per copiare Benassia e Ertò. Qui nella foto vediamo una foto del profilo Instagram proprio di Mollavague sopra durante la cena di Natale con alla sua destra l'altro protagonista di Marassi, lo spagnolo Geico. Anche il nazionale del Mali è stato pescato nella B francese e quindi si va a ripercorrere un po' anche la storia di questo giocatore. Come il ganese Badu per Molla sarà tra i convocati, pure Molla scusate, sarà tra i convocati per la Coppa d'Africa. Lasciato il Cain è stato acquistato dal Granada a parametro zero. Questa è un po' la storia, l'articolo che ripercorre proprio la storia e la carriera di questo giocatore esordiente, così soprannominato in questo articolo. Andiamo a vedere le decisioni del giudice sportivo. Soltanto una modizione con diffida per Dian Stankovic, il vice di Stramaccioni espulso a Marassi. L'ha deciso il giudice sportivo Gianpaolo Tosel che ha squalificato 11 giocatori, tra cui i bianconeri Ertò e Pinzi, che salteranno quindi la prossima sfida del 6 gennaio contro la Roma. Si parla anche di mercato in questo periodo e in particolare le voci di mercato per quanto riguarda i bianconeri sono tutte su Luis Muriel. La Samp vuole accelerare per Muriel, ma l'Udinese ascolta anche il Genua a parità di offerta. Sceglierà il colombiano. Si parla però anche di esoneri sulle panchine. Traballa quella del Cagliari, Zeman ormai al capolinea, 4i papabili. C'è anche Zola a questo punto. Tutto può succedere anche di ritrovare Zeman in sella al suo Cagliari dopo la pausa natalizia degli allenamenti iniziata ieri con l'ultima seduta dopo che il tecnico di Praga è stato dato per esonerato. I dati di fatto sono pochi ma determinanti. Tommaso Giulini già prima della partita contro l'Eventus non era più certo al 100% che quello di Zeman fosse un progetto adatto al suo Cagliari. Ed oggi potrebbe essere la giornata decisiva per capire appunto se Zeman potrà andare avanti o se nella sua casa di Roma riceverà la notizia dell'esonero. In questo secondo caso verrà ufficializzato anche il nome del suo sostituto con una rosa di 4 papabili, vale a dire Zola, Zenga, Ballardini o Rossi. Continuiamo a vedere le altre notizie riportate dal Messaggero Veneto perché parlo ovviamente anche della serata della Supercoppa. La lotteria premia il Napoli resa Juve ai calci di rigore. Nella Supercoppa i campioni d'Italia due volte in vantaggio con Tevez si fanno raggiungere da Higuain dopo i supplementari interminabili e la sequenza dal dischetto al nono giro l'errore fatale di Padoin che così regala la Supercoppa. Al Napoli di Benitez finisce 7 a 8 una lunghissima serata quella tra Juventus e Napoli. Chiudiamo il Messaggero Veneto per spostarci all'interno del Gazzettino e anche qui andiamo ad analizzare le principali notizie sportive subito all'interno della pagina dedicata all'Udinese e vediamo un'analisi sul campionato. Ovviamente si chiude il 2014, si tira una linea e si fanno un po' di bilanci. L'altalena di risultati può essere fermata da Genova. Sono venuti chiari segnali di miglioramento delle prestazioni e di consapevolezza. Si è ritrovata quindi un po' di continuità soprattutto dopo la sfida la brutta sconfitta interna contro il Verona un pareggio, quello contro la Sampdoria che ha effettivamente rivelato che il modulo adottato da Andrea Stramaccioni ha dato buoni esiti. Vaguè e Geico dimostrano che la rosa è ancora valida quindi non c'è solo Totò di Natale ma ci sono anche dei giocatori, giovani e non che possono sicuramente essere inseriti già da titolari. Squalificati invece la ripresa contro la Roma mancheranno Ertò e Pinzi per quanto riguarda invece la situazione degli allenamenti anche qui si ricorda la ripresa il 30 di dicembre con doppia seduta. Geico, la favola sotto traccia eccolo qui il titolo giustamente doveroso anche a Alexander Geico che è stato decisivo a Genova la favola sotto traccia lo svizzero ha trovato a 32 anni lo spazio in A. Abbiamo agito sotto traccia su di lui c'era il Betis Siviglia e altre squadre importanti parole pronunciate forse un po' avventate da Sergio Gasparin direttore generale dell'Udinese nel gennaio 2010 si riferiva a Geico quando diceva di aver agito sotto traccia invece ironia della sorte sotto traccia ci sarebbe finito proprio l'attaccante classe 82 che nel 2010 aveva 28 anni ma che a forza di maturare ne ha fatti 32 prima di riuscire a mettere il suo nome sulla mappa della serie A. Si parla anche di impianti sportivi un incontro importante tra FIGC e Comune sugli stadi prosegue quindi il dialogo tra il Comune di Udine e la FIGC del Friuli Venezia Giulia sul tema della gestione degli impianti di calcio cittadini l'assessore allo sport Raffaella Basana e il dirigente del servizio sport Filippo Toscano hanno incontrato a Palazzo d'Aronco il consulente della Lega Nazionale dilettante della FIGC Alberto Rigotto è stato un incontro molto positivo e proficuo sottolinea Basana il percorso proseguirà già il prossimo mese con un nuovo appuntamento per confrontarci sui dati elaborati e sulle rispettive proposte si parla anche però di ciclismo stella di bronzo del Coni al giro FVG e invece la BMX chiede più attenzione non vuole stare nei panni della cenerentola del ciclismo regionale di conseguenza ha assunto una posizione di rigida critica nei confronti della federazione sportiva nel cui ambito opera queste le principali notizie sportive all'interno del gazzettino ma ora ci spostiamo anche a vedere come analizzano questa giornata e questo anche fine di anno fine 2014 la gazzetta dello sport la gazzetta che però dedica nella prima pagina ovviamente spazio alla Supercoppa una Supercoppa show Juve Capò dopo 18 rigori Natale Napoli film da Oscar adora un festival di emozioni Tevez scappa due volte Iguaini lo riprende sempre e lo gela al 118esimo dal dischetto i bianconeri sprecano due match point Buffon nei paratré ma l'eroe della serata è Raffael caso nazionale invece Ai Conte preparerà l'europeo in 19 giorni al contrario di altre nazionali tempi stretti in vista del torneo 2016 per il CT che si infuria vediamo gli altri titoli che parlano anche di Formula 1 di Marchionne che dice Ferrari se vinci 4GP è paradiso il nuovo capo della rossa il 2015 sarà duro dichiara siamo in ritardo arriva bene invece dice non sono il mago Oronzo e poi in taglio basso vediamo ancora la notizia che riguarda l'ultimo allenamento di Zdenek Reia e Guidolin le alternative Zeta Cagliari da Zema Nazola il boemo discute la buona uscita Giulini tratta con il grande ex strategia invece Inter lista Mancini tra Cerci e Sala ora spunta l'idea Perisic strategia invece Milan Montolivo regista che bella idea chi esce davanti più Torres che pazzo andiamo quindi all'interno della gazzetta per vedere ancora la gioia del Napoli ieri sera per la vittoria della Supercoppa canta Napoli un dischetto di felicità Juve beffata due volte in vantaggio con Super Tevez i bianconeri sprecono anche due match point gli azzurri tenuti in vita da uno splendido Higuain alla fine fanno festa grazie alle prodezze di Raffaele qui nella foto vediamo tutta la gioia e l'entusiasmo del Napoli dopo la vittoria della Supercoppa di ieri sera a Doha le esultanze di quei giocatori del Napoli invece qui vediamo la grande delusione di un Gigi Buffon ancora una volta grandissimo tra i pali come paratore di rigori protagonista però è anche Raffaele perché si riscatta dalle critiche mettendo KO Buffon stavolta l'eroe dice sono io le tante critiche dopo le tante critiche ovviamente non facile rialzarsi dopo un infortunio ma servono anche quelle ho dato il mio contributo ha detto serve più concentrazione per evitare i risultati altalenanti e continuiamo a vedere alcuni giocatori a confronto due protagonisti di ieri sera il Pipita e la Pache il Pipita che urla la sua gioia orgoglioso della squadra sempre così queste le parole del bomber di Benitez e poi invece parla la Pache urla la sua rabbia l'ultima freccia contro il palo rovina la festa Tevez ha portato due volte in vantaggio la Juve poi l'errore dal dischetto Higuain invece decisivo con due golle un rigore questo Napoli se lo vuole può fare di tutto ha detto l'area tecnica invece anche qui è primo piano sui tecnici Benitez esulta immensa gioia aiutiamo Napoli a rialzarsi dall'altra parte invece Allegri spiega per lo fuori ci serviva più copertura parla anche ovviamente dell'Aurentis il presidente del Napoli rivela mi tengo Rafa Pechino sbaglia il regalo del patron del Napoli Strinic esterno mancino in scadenza col Dnipro tre anni a 1,6 milioni continuiamo la nostra rassegna sempre all'interno della gazzetta e vediamo un'altra analisi del personaggio questa volta si parla di Kovacic un'Inter stregata dal mago Kovacic il gol alla Lazio entra nella galleria dei gioielli nerazzurri la ricostruzione riparte proprio da lui sette gol stagionali di Kovacic con l'Inter quattro in campionato e tre in Europa League questo appunto per riprendere percorrere anche quello che sta producendo Kovacic che sembrava un po' caduto nell'ombra Moratti invece promuove Mancini finalmente si vede bel gioco ora c'è un'altra sintonia tra tecnico società e tifosi sul mercato dice Mancio sa cosa serve Inter cerci in Pol eccolo qui si parla di mercato ovviamente sale al piano B e c'è l'idea invece Perisic contatti vivi con l'Italia ma ci sono Milan e Arsena all'egiziano piace a Mancini il croato invece l'idea last minute continuiamo e vediamo un'altra pagina della gazzetta perché qui si è parlato di Inter ma si parla anche di Milan al centro è meglio Montolivo sa come si fa nel 2013 Allegri lo schierò terzo regista scusate lo schierò regista e il Milan chiuse terzo il futuro invece delle punte Milan chi esce Torres rischia più di Pazzini ora è Fernando quello che rischia di più e non va esclusa la pista Atletico Madrid in Zagli è dichiarato magari gioco con il trequartista pagina invece dedicata ai colori bianconeri questa volta a quelli dell'Udinese perché si parla e si dedica spazio a Geico all'analisi di questo giocatore chi era costui l'Udinese scopre il suo gigante buono lo suggerì ai friulani De Biasi che l'allenò a Levante dopo 4 anni in prestito ecco il primo gol il numero 7 è il numero che riguarda le presenze di Geico in A tutte all'Udinese le prime 4 tra il gennaio e il giugno 2010 le altre in questo torneo e qui si vede l'abbraccio tra Geico e il tecnico Stramaccioni che ha deciso di schierarlo da titolare nell'ultima partita contro la Sampdoria ed ha realizzato anche il suo primo gol in campionato dalla Gazzetta ora ci spostiamo velocemente a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport che ovviamente elogia un Super Napoli sfida infinita Juve battuta ai rigori Supercoppa azzurra 8 a 7 finisce così a Doha Higuain riprende per due volte Tevez poi Raffaele para tutto un taglio alto invece Cagliari Caos addio a Zeman Zola il favorito per la sua successione stadio invece stadio Roma dal Comune c'è il Via Libera e ora della Valle attacca Neto ci ha tradito andiamo in taglio basso arriva il Natale in stile Premier si parla del Chelsea in campo per Santo Stefano domenica e per Capodanno è tutto sbagliato invece Ferrari disastro Marchione dice siamo in ritardo per il 2015 questa è la dura critica a Montezemolo dalla prima del Corriere passiamo a vedere la prima invece del Tutto Sport anche qui prima pagina dedicata al regalo di Natale del Juventus che si butta via e che regala quindi la Supercoppa al Napoli incredibile finale a Doha doppia botta e risposta Tevez Higuain nel novantesimo regolamentare nei supplementari poi la pazzesca serie dei 18 rigori taglio alto invece Toro Pinigia che giallo sul cileno l'Atalanta accelera Sanchez Migno invece verso il taglio la Polonia esalta Glick speciale mercato dedicato al Genoa Costa United su Bale per 102 milioni e poi ancora via Zeman Zenga in Pol l'alternativa l'ex portiere è Zola gradito nell'ambiente chiudiamo con gli ultimi titoli in taglio basso nei box Vidic e Torres il flop è l'addio Cerci sale l'Inter e poi invece si parla di Schwarzer patteggiamento di Schwarzer 8 mesi e molta Ferrari invece anno 0 Marchionne duro basta disastri e chiudiamo così la nostra rassegna sportiva ed ora ci saranno nuovi approfondimenti sulle notizie di Cronaca grazie a tutti e buon proseguimento di giornata